La famiglia Sedorf produce industrialmente calciatori perché sono due i fratelli e un cugino, tra l'altro due giocano adesso nel Monza e noi li stiamo guardando, osservando per portarli al Milan e certamente quando Sedorf sarà allenatore del Milan avrà un occhio di riguardo per la sua famiglia. Noi siamo familisti e clientelari e quindi come si dice su tutti i giornali è chiaro che questa cosa la consentiremo, anzi la favoriremo.